Hai visto che poi non è stata una stupidaggine Facebook a pagamento? A fine esce Facebook Eh, ho visto perché c'è stata la... C'è una regolamentazione europea sul discorso di profilare le persone, no? E quindi hanno detto no, Facebook non lo puoi fare, come è fatto fino ad oggi E quindi per questo mettono a pagamento Ma pure Disney sarà a pagamento Cioè, se non vorrei pubblicità su Disney devi pagare di più Oltre a quello che paghi, io ti sdico l'abbonamento Per Disney? Disney, manca Disney che lo fa Disney Plus, intendi, la televisione? Sì, sì Perché disdici l'abbonamento? Perché io pago, non mi ricordo, mi pare 80-90 euro all'anno Però adesso metteranno la pubblicità Ma se non vuoi pubblicità devi pagare di più E quanto è sto di più? Per quanto riguarda Disney? Io ti pago per un servizio, cioè voglio vedere i film quando voglio io E tu non mi aumenti il prezzo perché mi hai messo dentro la pubblicità Quindi tu ci guadagni dalla pubblicità E io ti devo pagare per non avere la pubblicità Poi già non sono d'accordo con tante cose che fa la Disney Mi metti pure questo o disdico la Disney? Tipo? Beh, allora sono tutto il discorso woke, no? Woke Tutto il discorso, non so se hai visto gli ultimi film della Disney, non penso No, non credo Però fanno vedere la famiglia dove c'è il bambino che è innamorato del suo compagnuccio di classe Cioè è un volere indottrinare i bambini già da piccoli Che poi uno può essere libero di essere e provare quello che vuole, ci mancherebbe altro Ciao No, no, che poi te ne menti che hai questo letto in palla Mamma mia, aspetta, guarda come sta in tiro No, no Che cacchio Ok Vai Sta divertendo Vabbè, però se uno vuole uno paga di più e non c'è la pubblicità Cioè la pubblicità è sempre quello che fa da padrona Nel senso, se tu apri No, perdonami, no? Eh Tu hai Netflix? No Vabbè, facciamo che tu hai più Vabbè, c'è Prime Sky No, Sky è diverso Netflix che cos'è? È una piattaforma dove tu paghi per poter scegliere di vedere un film quando vuoi tu Un documentario, un cartone, quando vuoi tu, giusto? Quindi paghi un abbonamento proprio per avere questa libertà In teoria senza pubblicità Se invece inseriscono la pubblicità è perché loro ci guadagnano Perché l'inserzionista ti deve pagare E io ti devo pagare per non avere la pubblicità Ma come? T'ho comprato per avere questa libertà E in modo adesso tu mi... Basta, ciao Vabbè, perché si vede che non rientrano più Ma come fanno a non rientrare? Che sono dei colossi talmente grandi Come fanno a non rientrare? Beh, là c'è il discorso anche delle applicazioni pirata Ma secondo te le aumenteranno nel fatto del piratismo? A parte per me dovrebbero chiudere tutti questi che mettono la divisione al pagamento Però per scine questo... No, se tu scegli me per un servizio... Ma ce ne stanno 24, ce ne stanno... Quello è il problema che sono troppi Dai su... Che poi c'hanno i stessi film tra l'altro Uno prende un attore, uno le prende un altro, uno le prende un altro ancora L'altra volta quando è uscito... Ma si registrano? Sì, sì L'altra volta quando è uscito volevo vedere Togo Che è il film che era uscito ormai da tanto tempo Lo potevo vedere perché stava solo su Disney Plus Tu magari c'hai Netflix, Paramount Channel, c'hai Sky Dai, è su Sì, no, no, infatti Non la rubava No, 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 dai, no, veramente Fate poi due piattaforme e via Ce ne stanno 12 veramente? No, che poi devi pagare ancora di più per non avere la pubblicità Nauti V, Sky Io ce l'ho a tutte No, Infinity Dazzone Queste sono quelle che mi vengono in mente adesso Secondo me ci arrivo a 12, eh Sì, sì Secondo me ci arrivo a 12 Comunque C'è Rakuten Mai sentito però sul telecomando c'è della televisione C'è Apple TV, Samsung TV Sai qual è il colmo? È che tutti odiano la pubblicità Ma è la pubblicità che fa andare avanti le aziende Eh certo Quindi automaticamente magari ci sono delle aziende che diranno No, non voglio più vedere la pubblicità Ma al tempo stesso faranno pubblicità per pubblicizzare la propria attività Sì, ma scusami no Tu immagini l'utente medio Eh Stipendio normale 1.400, 1.500, 1.700 Che usa Instagram e Facebook tutti i giorni Secondo te? No ma non lo farà mai Come non lo faremo mai noi Perché? Perché comunque abbiamo L'impostazione marchettara della cosa Cioè noi utilizziamo i social e online Anche per vendere Per creare contenuti Per studiare i competitor Per aiutare altre aziende ad aumentare il loro fatturato Però nel complesso La cosa è un po' Una contraddizione Perché? Perché io magari Visto che l'utente medio Non lo farà Giustamente Non vado a dare 100 euro 160 euro all'anno Per Facebook Per non vede la pubblicità Che cosa farà? Si prenderà la pubblicità Chi lo farà? Magari farà E lo faranno quei pochi Che magari potranno permettersi Di buttare Perché sono proprio Di buttare Secondo me 160 euro E saranno proprio Magari quelle aziende Che magari utilizzano la pubblicità Per promuoversi online Ma non ci voglio credere Guarda YouTube No? YouTube è già da anni che lo fa YouTube Premium Tu paghi Per non avere pubblicità Però in realtà La pubblicità su YouTube Si fa E tanto E funziona anche tanto Però YouTube è un po' Io lo calcolo sempre Un social diverso YouTube È un social diverso È Google Quindi è una domanda consapevole Però funziona? Sì Però stai sempre lì Funziona Ma lì Hai la seconda possibilità Nel senso che Se tu vuoi trovare Un contenuto Vai su Google E ti esce il video Che ti piace Quindi se tu sei Una persona Che va su YouTube Per vedere Che ne so Per ascoltare Musica classica Tre ore Senza interruzione Ma tu hai un'esigenza Vai su Google E ti ricapita Comunque quel video Che può essere Messo e sponsorizzato O comunque creato Da un creatore Per risolvere Il tuo problema specifico Meta è un po' Un po' diverso Non ho capito Se io vado su YouTube Noi stavamo parlando Di YouTube Già fa pagamento Il discorso E c'è il YouTube Premium E ti esclude la pubblicità Ma comunque Tanti Tanti investono Nella pubblicità Su YouTube Eh Ma se io pago YouTube Premium Non è detto Che io non possa Accedere a dei contenuti Di un creatore Che comunque Si pubblicizza Attraverso YouTube Perché comunque Attraverso Google Posso anche Attraverso una domanda Consapevole Posso andare A intercettare Un video Meta funziona Un po' diverso Certo Sono d'accordo Perché Meta Tu hai possibilità Di A parte che si basa Sull'instant feed Quindi devi stare lì Anche se c'è Facebook Watch Alla fine Che ti permette Ma non è YouTube Non ci prendiamo un giro Devi stare lì A postare dei contenuti In continuazione E poi però Se mi escludi Le pubblicità Come vieni A contatto Io parlo di azienda Come vai a contatto Magari con una persona Che un professionista Può aiutarti Nel momento in cui Anche perché le scelte Sono cicliche Ed è in base Anche alla situazione In cui si trova L'azienda Nel momento in cui Magari decidi Di voler far promozione Online Quindi Questa cosa Del Del pagamento E chiudo Secondo me Va Solo ed esclusivamente Ad avvalorare A rafforzare Il posizionamento Di YouTube Io parlerei più Di posizionamento Punto Non di YouTube No Tu parli del brand In generale Sì Perché Sì Però Noi abbiamo sempre detto Bisogna produrre contenuti Da essere Onnipresenti Cioè devi stare Su tutte le piattaforme Oggi è ancora più vero Perché se Facebook Metta a pagamento Quello che abbiamo detto Le persone però Ti devono trovare Tu devi essere ovunque Eh ma se non mi metto Nella condizione Se io escludo La possibilità Di Essere davanti agli occhi Del potenziale cliente Per smettere il mio messaggio Su Facebook E su Instagram Però mi trovi magari Su TikTok Perché chi sta su Facebook E Instagram Di solito sta anche su TikTok Su YouTube Su LinkedIn Su Google Ads Cioè sono d'accordo Però questo Sì Eh forse stiamo a dire Come a solito La stessa cosa Non ci stiamo a capire Ha complicato un po' più le cose Sì per quanto riguarda Meta Esatto Secondo me Secondo me Molti Pensando Alcuni utenti Specialmente Molti Consulenti O molti Formatori O molti Professionisti Che vendono prodotti Ai ticket E quindi Rivolti ad un pubblico Alto spendente Potrebbe benissimo Pensare Un formatore Forse È meglio che Adesso In questo momento storico Vada a fare pubblicità Su Google Perché magari L'alto spendente Essendo proprio Alto spendente Potrebbe Attivare La possibilità Di escludere La pubblicità Non lo so Sto andando Purtroppo bisogna vedere Ci possiamo Fare tante teorie Però bisogna vedere Secondo me Non cambierà tanto Ah certo Se vendi Info prodotti Info business O comunque Usi un discorso Di cerchi di attrarre Un potenziale cliente Con un prodottino Per poi portartelo Avviene fondamentalmente Se fai parte Se ti rivolgi Al numero Quindi la stragrande maggioranza Di persone Che ha il social Non avrai Grossissime Differenze Non ci saranno Grandi cambiamenti Quindi Però Particolare Questa scelta Particolare Purtroppo L'hanno dovuto fare Per adeguarsi Ai regolamenti europei Quindi non è colpa Di facebook Sì Però Io ripeto È sempre Un controsenso Perché i social Fanno parte Per socializzare Il social Si basa Sulla persona Sull'utente Quindi sul contenuto Che l'utente crea In modo tale Da Interagire Con altre persone La pubblicità Tiene in piedi Facebook Perché Meta In questo caso Perché se non ci fosse La pubblicità Non riuscirebbe Meta A garantire Facebook e Instagram Gratuiti Ad oggi Automaticamente Però adesso Viene introdotta La possibilità Di pagare Per non avere pubblicità Cioè A ricordi logica È È un po' Un controsenso Sì Sono d'accordo Però Va bene Non c'è problema Fondamentalmente Sti cazzi Giusto Secondo me Sarà sempre Un po' più difficile Per i piccoli Cioè tu immagina Il piccolo Fisioterapista Dentista Che si vuole sponsorizzare Comincia ad essere Un po' più Complicato L'azienda Che fa Info Business Che ti fattura Un milione Cinquecentomila Comunque I soldi Li investeranno Perché sarà più difficile Perché magari È solo Monopiattaforma Il piccolo Mentre chi ha un po' Più di entrate Si sposta un po' Su tutte le piattaforme Eh ma qui Rientriamo nel discorso Che comunque Devi essere presente Su tutte le piattaforme E quello sono d'accordo Da marketer Ti dico di sì Però Il piccolo Che si sponsorizza Da solo Mentre prima Su Facebook Andava dalla grande Con questo cambiamento Potrebbe essere un problema Tutto qua E quindi Si dovranno affidare Ai marketer Che ti aiuteranno A risolvere Ma io non credo Che nel piccolo Ci sarà Un grossissimo problema Specialmente Per tutti quei Settori Medici Osteop Cioè Tutti quei Quei professionisti Che vendono Un pacchetto Non dico un pacchetto No Diciamo una prestazione Da 80 100 euro Non credo che Andrà a intaccare Anche perché poi Esiste sempre Il passaparola Ma Passami il termine Passami il termine Infatti il passaparola Quello che Devi stare lì E devi fare in modo Da poter Alimentare nel tempo No Per me Questa cosa Ti dico la verità Sarà proprio un buco nell'acqua Da parte di Facebook Un buco nell'acqua L'obiettivo Ma chiamolo Facebook Meta Facebook Instagram Solo che Loro non lo fanno Per guadagnare di più Lo fanno Perché l'Europa Diciamo ha rotto le scatole Allora facendo così Si sono tirati fuori dai guai Capito Si ma all'Europa Poi si entra in un discorso Che Dovremmo parlarne Per tre ore L'Europa rompe le scatole Eh All'Europa In America In America I marketer Si scambiano Le liste contatti Si lo so Cioè Il che non dico Che è giusto Però mi sembra Che in Europa Siamo sempre lì A A forza Cioè Nessuno Faccio un esempio stupido Quando te lo chiedono Vuoi Vuoi avere il contatto Mi dai il tuo contatto Per le ricerche di mercato No Voglio essere disturbato Però magari te ne vai Al centro commerciale Compri iPhone Per l'entusiasmo Inizi a A X A tutti Autorizzo questa Autorizzo quell'altra Autorizzo Cioè Secondo me ormai Siamo tutti schedati E facciamo parte Tutti Di qualche lista Contatti Di una grande Di un grande In giro del mondo Quindi Non lo so Pure questa cosa Mi sembra una grande Assurdità E' vero Autorizzo il trattamento Ma perché Non sarò già schedato Da qualche parte Eh ma lì c'è il Consente Si però tanto poi Ti hai visto poi Che c'è Autorizzo il trattamento Di terze parti Autorizzo il trattamento Quindi Non ho mai a mente Mi sembra un po' La presa in giro Cioè Tutto questo Cercare di proteggere I propri dati Si Se non fossero già messi Online I nostri dati Non lo so Non so come spiegarti È assurdo È assurdo Assolutamente Ma so io che penso male No 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 Sono d'accordissimo con te Hai visto che Acti Campena Adesso ha messo anche Un limite All'invio di mail Ce n'hai cinque No 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 Tu anche se Prendi il Il pacchetto Base Gratuito No Quello a pagamento Da 13 euro al mese No non mi ricordo quanto costa Da 45 Io ho Clienti che hanno 20 mila lead Pagano un bel po' Active campaign Adesso ti conta anche il numero di mail Che mandi Cioè c'è un limite al numero di mail Che puoi mandare Sennò devi passare Un altro piano superiore Al numero di mail No di lead Sì 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 Ho capito Ho capito No Non Non me ne sono resa conto Di questa cosa Anche perché Io Non faccio Non lavoro Con la massa Cioè lavoro un pochino più Con un target ristretto Quindi le conseguenze Non è che vado Con la massa No però Non sono un'azienda Che prende E deve raccogliere 50 mila lead Cioè Per me Per te Cioè tu riuscire a gestire 100 clienti l'anno No no Quindi 100 clienti l'anno Magari li potresti avere Benissimo Prendi come pinza Sta cosa Catturando mille lead Mille lead Devi lavorare bene 10% No era solo per dire Che sta aumentando tutto I costi stanno aumentando in tutto E anche Capito Andiamo dall'altra parte E' quello il problema E' quello il problema Davvero Che trattarsi I costi Cose varie No no vabbè Ma io ho sempre pensato E penso tutt'ora Io l'Italia la amo Ma la odio Cioè io amo l'Italia Ma odio l'italiano Quindi No io amo l'Italia Odio il sistema Vabbè adesso stai a fare Demo cristiano No 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 Tu il microfono ti spetti E dici delle cose Certo No 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 Allora no Questo è un po' È un paese bellissimo Potrebbe funzionare Benissimo Ma è veramente Cioè Sto perdendo completamente Fiducia in questo paese Il carcola siamo A livello di corruzione Siamo tipo Cinquantesimi Nella lista Sembra è andata bene Penso se fossimo primi Cioè Controllo sulle notizie Quello che ti vogliono fare Vabbè Poi sulle notizie È una cosa mondiale Non è sull'Italia Vabbè lasciamo perdere Perché poi È mondiale Non è sull'Italia Allora Allora Ammettilo Ammettilo Ma ormai si sa No ormai si sa Cioè Ormai Ormai No Lo ammetti Allora In Cina c'è il controllo Perché c'è il comunismo Ok Stessa cosa Democrazia Non funziona Non funziona Quindi lo ammetti Ma io sono democrazio Io ho sempre Non posso dire che ho votato Però Io ho sempre votato A favore Della democrazia Però Fondamentalmente Tu lo ammetti Che non funziona Da sto mertà Sto Cioè Non sei un po' Stanco No io sono stanco Di pagare le tasse Quello sì Eh Per non avere servizi Eh Ti paresse poco Eh Ti pare poco questo Eh no Non mi pare poco Caccola che Ma hai sentito pure Delle pensioni Che vogliono tagliare Le pensioni ai medici Che i medici vogliono andare via Dall'Italia Stai con noi Leo Sì No è che Allora Per esempio Sì sì no L'ho sentito Mi sono assentato Perché per esempio Eh Conosco persone Che Ti faccio questa domanda Tu per 40 anni lavori Manager Imprenditore Quello che ti pare E paghi le tasse Adesso tu mi devi spiegare Al 41esimo anno di vita Dice ti taglio le pensioni Che t'ho pagato No entro in pensione Per quale cazzo di motivo Io devo continuare a pagare le tasse Ah no Quello non c'è senso Non c'è senso Perché io ho pagato le tasse Per avere la mia pensione Quindi continuo a pagare le tasse Pagare le pensioni agli altri Se no non c'è Non c'è senso Ma perché Cioè quelli sono i soldi miei Che ho Cumulato Nel corso degli anni Cioè perché mi devi far pagare le tasse Poi fossero pochi Infatti se ne vanno Poi fossero pochi Siccome c'è Tanti pensioni Se ne vanno In Tunisia In Turchia Adesso Portogallo ha chiuso Ha chiuso Infatti tanti Infoimprenditori Se non lo spostano Portogallo ha chiuso Ma Ha mantenuto I vantaggi e i benefici Per chi Già si era spostato E adesso È residente lì Quindi di conseguenza Se in italiano L'anno scorso Due anni fa È andato lì Ha fatto quello che doveva fare Ha la possibilità Di mantenere quei benefici Però Se tu vuoi andare Ad oggi Portogallo Finito Scordato Finito Ma secondo te Tutte le mafie No Varie organizzazioni criminali Come fanno Che i tasse Perché Cioè Quello è il problema Dei mafie No Cioè Tu ti rendi conto Cioè se uno vuole fare Il cittadino onesto Che vuole Deve pagare tutto Non riesce a sopravvivere No ma il cittadino onesto Non lo puoi fare Invece i disonesti Vanno alla grande Ma perché Comunque qui oggi abbiamo Esiste il cittadino onesto? Dipende cosa intendi Per il cittadino onesto No Non intendo il mafioso Che te te puntano E te spara in testa No Io sto dicendo Il cittadino Conosci il cittadino onesto Che è il ligio Al dovere Non ha mai pagato Una Ha sempre pagato Tutto Una multa Sì no Ce ne sono tanti Il problema Che poi dopo Però passano da coglioni Eh sì Perché? Perché è sbagliato il sistema Io ho sempre detto O meglio Sono sempre stato Il parere Tu mi chiedi Il sessanta A te A me Il sessanta Sette per cento Tra 22 Mi ricordo manco i valori Per quanti Tra l'IMS Il 27 Te puoi arrivare C'è Il 22 Di IRPEF Il 22 Di IVA Anticipi E il cliente Me lo devo pure cacciare io E me lo devo fare pubblicità io Ok Quindi il sessanta Sette per cento Dici scarico Quello Quell'altro Dico Vedi Pure sta cosa Scarico Quello Sempre a cercare Scamotaggio Ma non cambi Ma mettere il 25 Per cento E pago volentieri Arrivederci no Guadagno 100k Te ne do 25 E sto tranquillo È sbagliato No 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 Guadagno un milione Te ne do 2,50 Mero de sempre Il culo Però 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 Mero del culo Con stile Certo No Lamborghini No no Nel senso No a parti scherzi No no è così È così Qui Sfori il confine Adesso Per scherzo Ero andato a vedere Le case a chiasso No Che sta in Svizzera No Ma la vita Ti costa di più Però Eh ho capito La vita Ti costa di più Però C'hai veramente Meno tasse Eh lo so Stanno proprio Meno tasse Eh lo so Tu Scavalchi il confine Slovenia Un altro mondo Svizz Meno tasse Qui Sei proprio Già a Slovenia Ci sono anche Meno costi Non mi dispiacerebbe Il problema è la famiglia Come la sposta La lasci Ah giusto Ah scusa Tutti questi problemi Non ci sono Quella l'abbandoni Voleva da comprare Le sigarette In Slovenia No no Al mare Ah sulla montina Legati al guardrail No 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 Tu esci Per una torbaglianica Vai al mare Voleva da comprare Il gelato E ciao Arrivederci Giusto Bene sono contento Che io non lo guardo Questo podcast Perché altrimenti È così che si fa Senti Abbiamo spaziato un pochino In questo podcast Era un po' che non lo facevamo Quindi Per la felicità degli spettatori Ah sì Vabbè Non so se erano felici o no Fondamentalmente Però Tra l'altro uscirà anche La puntata di Facebook A pagamento Se non è già uscita È già uscita? Non lo so Perché lì io le programmo Non è che posso stare Ogni sabato Alle 11 Perché io guardo Tutti i sabato No no Potrebbe Ah bravo Bravo No no Mi mandi il link Dico Mazza Eh me lo guardo Non è che Non è che aspetto Quindi uscirà la puntata Di Facebook A pagamento Questo sarà Facebook a pagamento Parte 2 Ok Abbiamo fatto già La prima parte Abbiamo fatto Eh sì Abbiamo detto Hai visto che Facebook a pagamento E tu avevi detto No È una fake news Così Ma te pare Ecco Ho fatto niente Invece Invece Questo Non è una fake news E E quindi Questo è quanto Credo che Inizierò a fare Dei videocorsi Voglio buttare Sull'info business Bravo Del videocorso Bravo Tenta e frega niente Tanto per Per mandare avanti Un pochino Altri due minuti È girato Quindi volevo dirti Questa cosa Grazie Sai chi mi aiuterà A fare marketing No? Sto cazzo No no Pensavo che si fa La battuta No no T'avrei detto Oh Ma frego Sai chi ho incontrato Ieri Su sto cazzo Eh T'avrei detto così Però No no Lo sai perché Sono arrivato a questa cosa Perché per quanto Esistano un sacco Di contenuti gratuiti E per quanto Esistano un sacco Di contenuti Che veramente Possono aiutarti A costo zero A formarti Le persone Che arrivano in call O le persone Che si accingono A intraprendere Questo percorso Del marketing online Mancano proprio Di alcune nozioni Che secondo me Un imprenditore Dovrebbe avere A prescindere Perché Per me Formarsi È la base di tutto Per poi Delegare Quando sarai più grande Ma comunque Fare le cose Anche quando sei Un po' più piccolo Cioè Per me La formazione Tu fai le cose Perché comunque Ti sei formato Sì Il masterman Sì È tutto Però Hai iniziato Un percorso Perché sei entrato E te sei formato È comunque formazione Poi hai delegato I compitini Ad altre cose Che ti permettono Di Acquisire Più tempo O comunque Investirlo In altro Ed essere Anche un pochino Più Performante Mettiamola così Perché comunque Le cose che ti fa Un professionista Non sono le stesse Che magari potresti fare Tu E via E molti mancano Proprio questa cosa Non c'è proprio Lo spunto E allora A questo punto Ho detto Sai che nova c'è Ti faccio un prodottino Se passi l'esame Del prodottino Poi entriamo In consulenzina Perché altrimenti Poi in consulenzina Eh no Ma io quello Non lo so fare Eh ma le stories Non le so pubblicare Eh ma quello Eh no E c'è l'infoprodottino E io non mi gioco L'orettina Giusto E quindi Detto questo Vuoi salutare Vuoi mandare Volevo salutare Tutti quelli che mi conoscono Va beh Ok Grazie Per essere Stati con noi Spero che il podcast Vi sia piaciuto Se vi ruote il culo Pagare le tasse Scrivetelo nei commenti Se Avete qualche domanda Da fare a Manfredi Scrivetelo nei commenti Se avete qualche dubbio Per pressità Sugli argomenti Che abbiamo trattato Scrivetelo sempre nei commenti Ricordatevi di iscrivervi al canale Attivare la campanellina Che non so neanche più Se c'è Attivare la campanellina Perché comunque Ha fatto aggiornamento YouTube Me lo devo vedere Ma mica posso Sta sempre a vedere Ma quelle campanelline Devo vedere Quindi Al prossimo podcast Ciao